Tu, con il cuore del fango, l'oro e l'argento e le sale da te Paese che non ha più campanelle Poi, dolce vita che te ne vai Auguro ai finalisti di musicoltura di passare la vita con la musica Questo è stato l'auspicio di Antonella Ruggero Che ha tenuto a battesimo sul palco del Teatro Persiani di Recanati I sedici finalisti di musicoltura 2018 La Ruggero invita i ragazzi ad essere e credere sempre in se stessi Essere se stessi, originali, cercare un modo nuovo e assolutamente unico Se è possibile di esprimersi senza ripetere ciò che già esiste Quello sì La serata di Recanati condotta da John Vignola costituisce da sempre Una tappa fondamentale nel percorso annuale di musicoltura Prima del voto del Comitato di Garanzia per sei finalisti E del Popolo dei Social per gli altri due Che decreteranno gli otto vincitori che si esibiranno allo Sferisterio Nelle serate del giugno prossimo È uno degli appuntamenti più eccitanti diciamo Che ci fanno, sottolineano lo stato di salute della canzone popolare in Italia E quindi ci piace presentare questi sedici artisti Che rappresentano un po' come negli ultimi due o tre anni tutti i generi Per cui possiamo ritrovare la vecchia scuola della canzone d'autore Le nuove sonorità anche soltanto testuali E fino ad arrivare a della vera e propria sperimentazione Per cui il pubblico, un pubblico vasto sarà accontentato a 360 gradi Per cui il pubblico, un pubblico vasto sarà accontentato a 360 gradi